Marco Merloni trascina il Buscecchio in semifinale di Coppa dei Campioni. Un miracoloso recupero contro l'avversario di turno Daniele Fiorini dopo che le due squadre, se erano sul 3-3, consentono alla squadra di Forlì di guadagnare il Lassia Passara per la semifinale. Ma questo quartifinale di Coppa dei Campioni qui al Pellevedriccione ha veramente tenuto in sospeso fino all'ultimo secondo ed in bilico il risultato perché il Buscecchio che si era guadagnato ben presto il vantaggio 2-0 grazie a uno stratosferico Daniele Ricci che aveva battuto Claudio Leonardi e la coppia Morri-Versari che aveva invece superato gli avversari di turno, Mini e Bolognesi. C'era stata in finale di primo tempo la vittoria della coppia del Cicco dello Sport fissando sul 2-1 l'intervallo. Poi Minocchi straordinario aveva portato subito il Buscecchio sul 3-1 ma a quel punto sia Simone Cardellini che Paolo Gamboni due che qui a Riccione hanno sicuramente qualcosa di importante da raccontare portavano il Cicco dello Sport sul 3-1 e vi ho già detto cosa è successo. Merloni recuperava una partita che aveva 40 punti di ritardo proprio con un rush finale straordinario. Adesso il Buscecchio deve affrontare i campioni regionali del Manecafè Boccioffi nella semifinale mentre nell'altra si affronteranno il Gran Hotel Palazzo Taverna Verde e il pronto porter 7 crociari.